Abbigliamento sportivo e qualche traccia di relax su facce in cui lo stress da campagna elettorale si è accumulato per giorni. Almeno a Pasqua i candidati sindaci a Bari si sono concessi una pausa. Non rinuncia alla passione della corsa. Pasqua è un momento in cui possiamo avere un po' di tempo libero. Faccio un po' di cose che nei ritmi di questi tempi è difficile fare con calma. Dedicarsi alla famiglia, alla casa. La famiglia è un po' alla lettura, qualche piccola passione che ho io me la coltivo oggi. Se il candidato di centrodestra percorre via Sparano per trovare quello di centrosinistra bisogna andare nel suo quartiere Torriammare. Pasqua assolutamente in famiglia, sono stata a Messa e adesso sto con le bambine finalmente dopo tanto tempo. Sono nel mio quartiere, qui per fortuna non sono né parlamentare né candidato sindaco, sono soltanto Antonio, sono cresciuto qui, mi piace stare qui. Per desiree di Geronimo, Messa è subito dopo pranzo con la famiglia. Con i miei figli, mio marito e altri familiari. Gli auguri ai baresi ciascuno li fa a modo suo. Bisogna fare per forza perché sono candidato, ma comunque li faccio sinceramente. Di una buona Pasqua e che la prossima possa vedere magari qualche problema in più risolto. L'augurio è di stare in famiglia, di ritrovare un po' di serenità in questi giorni di festa. L'augurio è di essere uniti e di ritrovare un senso di comunità.